Dopo aver incassato lo scudo antispread, Monti si chiama fuori dalle vicende politiche della prossima legislatura, esclude di restare al governo dopo le elezioni del 2013, dice il Premier che all'Ecofin di Bruxelles, sui conti del nostro paese avverte, sarebbe azzardato dire che l'Italia non avrà mai bisogno d'aiuto. Dopo il pressing di Napolitano, entro dieci giorni al Senato verrà presentato un testo della legge elettorale come base di confronto prima di affrontare l'Aula, ma le posizioni tra i partiti restano lontane, la distanza maggiore sulle preferenze, mentre dal vertice del PDL, che insiste sul presidenzialismo, sembra rafforzarsi l'idea di una nuova discesa in campo di Berlusconi. Nuova tragedia dell'immigrazione, 54 immigrati che tentavano di raggiungere su un gommone l'Italia dalla Libia sono morte per disidratazione, secondo la testimonianza dell'unico superstite l'imbarcazione è rimasta alla deriva per due settimane tra la Tunisia e la Sicilia. Sempre più teso il dopo Mubarak in Egitto, l'alta corte ha sospeso di fatto e bocciato il decreto del neopresidente Morsi che voleva far riprendere l'attività del Parlamento, che la giunta militare di fatto aveva sciolto il 15 giugno scorso, ora si teme un nuovo durissimo braccio di ferro. Buongiorno, salvare l'euro, proteggere l'Italia fino però alle elezioni del prossimo anno, del 2013, poi ha detto il Premier Monti, finisce il mio impegno in politica. La dichiarazione arriva dopo giorni di illazioni da Bruxelles, dall'Eco, fin da dove il Presidente del Consiglio sui fondi salva Stato, avverte che l'Italia fino ad ora non è stata aiutata, ma non è detto che non ne avrà mai bisogno. Sentiamo il servizio. L'Italia incassa lo scudo antispread, la Spagna e i primi 30 miliardi per le sue banche intossicate. Testate le resistenze finlandesi, olandesi Mario Monti e l'Eurogruppo, porta a casa il meccanismo che prevede l'eventuale acquisto di titoli pubblici a tassi calmerati da parte dei fondi salva Stati per gli Stati che hanno sempre seguito le raccomandazioni di Bruxelles. Sarebbe ardito dire che l'Italia non avrà mai bisogno di aiuti di questo o di quel fondo. Ma è bene sapere che esiste. Io, dice Monti, non lo userò mai, ma poiché ribadisce che non è sua intenzione proseguire l'esperienza da Premier, fa capire che lascia questo strumento al suo successore, con un bonus. Potrà attivarlo senza avere il fiato sul collo della Troica, niente commissariamento alla greca per intenderci. Anche la Spagna, dicevamo, canta vittoria. Da una parte si vede garantire un primo assegno da 30 miliardi di euro che girerà alle sue banche intossicate per cominciare a ricapitalizzarne. Dall'altra le viene concesso un anno in più per far rientrare il suo deficit sotto il 3%. In cambio, Madrid ha dovuto cedere a Lussemburgo il posto che le aspettava nel bordo della banca centrale europea. E le parole di Monti sulla sua precisa intenzione di non andare oltre il voto del 2013 rilanciano il dibattito politico su alleanze, possibili candidati, anche sistema elettorale. Dopo l'invito a fare la riforma del capo dello Stato napolitano, adesso dibattono i partiti distanti sulle preferenze. In particolare ieri sera poi il PDL si è riunito, vertice, e sembra proprio che si ritorni ad una nuova discesa in campo di Berlusconi. Non andrà in vacanza in Sardegna Silvio Berlusconi, ma resterà nel bunker di Arcore tutta l'estate a preparare il suo ritorno in campo. Non una semplice tentazione, né un azzardo fuori tempo massimo. Sarebbero i sondaggi a cui l'ex premier resta fedele, gli scenari per il voto nel 2013, analizzati con attenzione a spingerlo in quella direzione. Tornare in sella a Palazzo Chigi con un partito rinnovato, a questo starebbe pensando il Cavaliere, a cui del resto il ruolo del padre nobile e del PDL è sempre stato stretto. E poi, riferiscono fonti di via dell'umiltà, sarebbero proprio i suoi elettori a chiedergli un impegno più diretto. E i prossimi due mesi serviranno appunto a scaldare i motori della macchina che dovrebbe riportarlo sulla scena politica. Berlusconi vorrebbe cambiare nome al partito, logorato dai personalismi, e farsi accompagnare in questa nuova avventura da una squadra di quarantenni capaci di conquistare voti sul territorio. Con lui di nuovo al timone o in ticket con Alfano, il PDL arriverebbe al 30%. Questo direbbero anche gli ultimi sondaggi sul tavolo. Nel giorno in cui Monti esclude di restare a Palazzo Chigi, anche dopo il voto del 2013, i partiti, alla ricerca di un'intesa sulla riforma della legge elettorale, ragionano su ipotesi di grandi coalizioni, il PD Bersani invece rimette la palla al centro. Penso che l'Italia debba essere una democrazia come le altre, afferma, non senza irritazione per quella lettera firmata da 15 esponenti del suo partito, che chiede di portare l'agenda a Monti oltre il 2013. Sulle reali intenzioni del professore, avanza Dubbi invece libero, quotidiano vicino a Berlusconi e al PDL. In un retroscena si parla di una lista Monti, il cui marchio sarebbe stato registrato il 28 maggio scorso presso l'ufficio italiano Brevetti a Roma. Solo a settembre però se ne saprà di più, riferisce l'uomo che l'ha depositato. Partiti che in Parlamento si stanno confrontando sulla spending review contro la revisione della spesa, protestano le categorie più colpite. I farmacisti hanno annunciato una serrata per il 26 luglio e minacciano anche la disdetta delle convenzioni col servizio sanitario. Una lunga giornata di protesta che si è conclusa con una conferma. Il 26 luglio sarà serrata. I farmacisti non hanno cambiato idea nemmeno dopo l'incontro con il ministro della Salute Balduzzi. Ci ha dato delle aperture che verificheremo, ha spiegato ieri sera Anna Rosa Racca, presidente di Federpharma, al termine del faccia a faccia. Ma non è bastato a scongiurare la chiusura per una giornata intera delle farmacie di tutta Italia. Si sono radunati in 300 ieri camici bianchi sotto la canicola romana armati di fischietto di fronte a Montecitorio. Titolari delle farmacie e dipendenti delegati da tutta Italia delle 120 associazioni di categoria. Nel mirino le misure della spending review che colpiscono le farmacie. Tagli insopportabili, secondo la presidente di Federpharma, che metterebbero a rischio 20.000 posti di lavoro. Per questo, mentre andava in scena la protesta, l'Assemblea nazionale di Federpharma, convocata sempre a Roma, decideva la serrata. I farmacisti spiegano che il decreto del governo aumenta e di parecchio lo sconto che siamo obbligati a fare allo Stato sui rimborsi per i prodotti venduti dalle farmacie in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. A rischio sarebbero soprattutto le farmacie che basano i loro incassi in via quasi esclusiva sulle vendite di farmaci convenzionati. Per la federazione delle farmacie comunali, inoltre, le misure colpiscono in maniera ingiusta e sconsiderata la farmaceutica territoriale che rispetta regolarmente i livelli di spesa prevista. Insomma, a sentire i farmacisti dietro la protesta non ci sarebbero meri interessi corporativi, ma il rischio per la sopravvivenza stessa di molte farmacie. Presto, sostengono, diventerà impossibile garantire il servizio notturno nei comuni, oltre ai servizi oggi gratuiti per i cittadini. Federfarma chiede anche al governo di avviare un tavolo per un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie previsto da una legge del 2010, ma rimasto inattuato. Ieri sera, uscendo dall'incontro con Balduzzi, la presidente di Federfarma ha detto che i lavori per quel tavolo cominceranno la prossima settimana, quando i farmacisti torneranno dal ministro. Non basta per il momento a fermare la protesta. Protestano i farmacisti, in allarme l'Inps per i conti del 2012. Nel bilancio preventivo, infatti, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'ente ha rilevato che ci sarà un disavanzo di 6 miliardi che sfioreranno i 7 nel 2013 e 2014. Questo a causa del buco di bilancio di un altro istituto previdenziale, l'ImpDAP, l'Istituto Previdenza dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione, confluito l'ImpDAP nell'Inps, o per meglio dire nel Super-Inps, varato dal governo con il decreto Salva Italia, in cui sono confluiti altri enti oltre all'ImpDAP. In un documento del Consiglio di Vigilanza dell'Inps, si chiede al governo di adottare adeguate misure correttive per sanare il disavanzo economico e patrimoniale della gestione ex-ImpDAP e quindi garantire, viene sottolineato dall'Inps, la sostenibilità della spesa pensionistica. Allarme che riguarda chi prende la pensione, ma certo in Italia non va bene nemmeno per chi cerca lavoro. I dati della disoccupazione giovanile nel nostro Paese hanno abbondantemente superato il livello di guardia. Spread, debito pubblico, recessione economica. Questa crisi ha tanti volti, ma quello più preoccupante probabilmente è quello della disoccupazione e in particolare della disoccupazione giovanile. Lo ha ribadito più volte l'Istat, ce l'ha ricordato oggi l'Ocse. In Italia, in pochi anni, il tasso di disoccupazione dei lavoratori tra i 15 e i 24 anni è cresciuto di circa 15 punti percentuali, passando dal 21,6% al 36,2%, in pratica uno su tre non lavora. In pochi lavorano e quelli che lo fanno, sempre più spesso nel 49,9% dei casi, devono accontentarsi di impieghi precari. Se la situazione dei giovani è drammatica, va deteriorandosi anche quella complessiva. L'Ocse infatti stima per il 2012 una disoccupazione media al 9,4%, destinata a salire al 9,9% l'anno prossimo. Dati pessimi e non servono molto a consolarci l'elogio della riforma del lavoro fatto dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica Internazionale. Nel sostegno convinto alle ambiziose riforme attuate dal governo Monti, dato dal Fondo Monetario Internazionale, che infatti dal canto suo snocciola dati tutt'altro che rassicuranti. Nel 2012 il nostro PIL crawlerà dell'1,9% ed il debito pubblico schizzerà al 125% del PIL, un futuro con poche certezze. Sono state uccise dalla sete le 54 persone morte a bordo di un gommone mentre fuggivano dalla Libia ed erano in direzione delle coste italiane. Il racconto tragico lo ha fatto l'unico sopravvissuto, un cittadino eritreo. Morire di fame di sede sull'ennesimo barcone della speranza, partito dall'Africa verso l'Italia. A dare notizia dell'ultima tragica storia di immigrazione nel cuore del Mediterraneo è stato ieri l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. E il racconto di un'Udissea durata più di due settimane, finita con un bilancio di 54 vittime e un solo sopravvissuto. Un cittadino eritreo che da un ospedale tunisino, dove è ricoverato per assideramento, ha ricostruito le tappe del viaggio maledetto, descrivendo i dettagli agli operatori dell'ONU che ieri lo hanno incontrato. I 55 migranti, la maggior parte con nazionali del superstite, erano partiti a fine giugno dalle coste ribiche a bordo di un gommone, diretto verso la Sicilia. Dopo un giorno di navigazione, l'imbarcazione era già in prossimità delle coste italiane, ma forti venti l'avrebbero spinta indietro, verso la Tunisia. Da lì in poi inizia un calvario in mare aperto, durato 15 giorni. Il gommone a poco a poco si sgonfia, i passeggeri restano senza vivere acqua fino a morire, uno dopo l'altro, per disidia d'azione. Molti di loro, per cercare di sopravvivere, hanno bevuto acqua marina. L'uomo che è sopravvissuto è stato trovato aggrappato ai resti dell'imbarcazione da alcuni pescatori tunisini che lo hanno soccorso. Immediato l'allarme dell'agenzia ONU, che ha esortato i comandanti delle imbarcazioni del Mediterraneo a prestare la massima attenzione a possibili casi di migranti in difficoltà. Dall'inizio dell'anno sono circa 170 gli immigrati morti o dispersi nel tentativo di raggiungere l'Europa dalla Libia. L'ultima tragedia, ha commentato il ministro per la cooperazione Andrea Riccardi, deve indurre tutti i paesi europei a rafforzare il dialogo con il Maghreb e con i nuovi governi nati dopo la primavera araba. Intanto dalle Nazioni Unite arriva un'altra allarme. Un'imbarcazione con 50 migranti sarebbe ancora in mare aperto. Potrebbe trattarsi del gommone soccorso inottata, a largo di Capopassero, ma le ricerche della guardia costiera sono ancora in corso. È una lunga e sofferta uscita di scena quella di Umberto Bossi che rilancia le accuse contro presunti complotti anti-carroccio e ribadisce, mi sono fatto da parte per salvare la Lega. L'unità prima di tutto. Questa, secondo Bossi, è la ragione per cui ha lasciato la Lega nelle mani di Umberto Maroni. In una intervista il senatore spiega c'era il rischio concreto che il partito si spaccasse. È un sofferto ultimo atto quello che continua ad andare in scena in casa leghista con il padre fondatore mal disposto a cedere la scena al neosegretario. Ma Bossi ne ha per tutti, a cominciare dal premier Mario Monti. Sfortunatamente di Varese, dice, lo chiamano professore, ma io vedo due orecchie lunghe lunghe. C'è poi il tasto dolente delle inchieste degli scandali con l'ennesima damnazio memoria dell'ex tesoriere Belsito. È stato messo lì come quinta colonna per distruggere la Lega, ribadisce il senatore. Parla Bossi da presidente senza potere, mentre la nuova Lega ribadisce che il capo ora è Roberto Maroni. Ma è proprio la Bossi Family che torna protagonista con la diffusione delle intercettazioni dell'utenza di Belsito. Ci sono le spese private di Renzo, autostrada compresa, e le amichevoli confidenze con la signora Bossi, Manuela Marrone, che così si sfoga. Sendo lui un genio, ha potuto essere sempre contornato da imbecilli, perché tanto faceva tutto lui. Eh sì. E' quello il problema. Mi ha detto anche, ma come è il capo è contornato da imbecilli? Ma uno o due sono normali. Ma qui sono tutti imbecilli. In Egitto adesso il paese rimane sull'orlo di una crisi istituzionale davvero pericolosa. Il Parlamento, sciolto dalla Corte Suprema, si è riunito con l'avallo del presidente Morsi e sfidando apertamente la giunta militare, il nodo rimane la scrittura entro l'anno della nuova Costituzione, che Morsi e i fratelli musulmani vogliono come stato confessionale, con il Corano come legge fondamentale, mentre i militari sono per la laicità dello Stato. La risposta della Corte Suprema Egiziana è arrivata proprio mentre Piazza Tahrir si mobilitava in sostegno del neopresidente. A sorpresa l'Alta Corte Costituzionale del Cairo ha deciso di sospendere l'applicazione del decreto con il quale Mohamed Morsi domenica scorsa aveva ordinato la ripresa dell'attività del Parlamento, cancellando così lo scioglimento dell'Assemblea Popolare, voluto dal Consiglio Supremo Militare il 15 giugno, due giorni prima le elezioni presidenziali. Continua dunque il duello tra i vertici delle forze armate da sempre alla guida dell'Egitto e i fratelli musulmani che dominano il Parlamento e con Morsi hanno il primo presidente eletto democraticamente nella storia del Paese. Ieri, seppure per soli 12 minuti, il Parlamento è tornato a riunirsi, sfidando i militari e la Corte Suprema che li sostiene. Non vogliamo contraddire la Corte Costituzionale, ma cerchiamo una strada per attuarla al meglio, ha dichiarato all'Assemblea il presidente del Parlamento, Saad El Khatatni, segretario e vero leader dei fratelli musulmani. La soluzione proposta dai partiti islamisti prevede nuove elezioni da tenersi entro 60 giorni dall'approvazione della nuova Costituzione egiziana che ancora manca al Paese. Su questa partita si gioca il futuro equilibrio dei poteri tra il Parlamento e le forze armate, ma il braccio di ferro in corso in Egitto comincia a preoccupare la comunità internazionale e al termine di un incontro con Mohamed Morsi, il ministro degli esteri tedesco Westerwelle, si è detto comunque convinto che la crisi tra i poteri istituzionali sarà superata. Sabato al Cairo arriverà invece il segretario di Stato americano Hillary Clinton, che ieri ha invitato con forza al dialogo tutte le parti in Egitto perché non fermino il processo di transizione verso la democrazia del dopo Mubarak. Il calcio scommesse, il procuratore federale Stefano Palazzi insieme ai suoi collaboratori ha il lavoro sul terzo filone dell'inchiesta. Ieri ha interrogato i due pentiti, Andrea Masiello e Filippo Carobbio. I due giocatori sono stati messi sotto torchio dai giudici della Corte federale della FIGC. Masiello è stato ascoltato per più di quattro ore su diverse partite sospette del Bari tra i quali il match giocato con l'Udinese il 9 maggio del 2010. Ancora più lunga l'audizione del calciatore dello Spezia Carobbio, già squalificato per 20 mesi, è stato chiamato a confermare le sue accuse nei confronti di Antonio Conte, allora allenatore della squadra del Siena sulle partite Novara-Siena, Albino Leffe-Siena e Siena-Varese. E intanto, lo vedete nelle immagini, l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha proposto ricorso al TAR del Lazio per ottenere la sospensione del provvedimento con il quale l'Alta Corte di Giustizia del CONI ha confermato la sua radiazione. Scandali di diverso genere riguardano il ciclismo. Al Tour de France è stato arrestato un corridore. Il francese Rémy Di Gregorio l'accusa è doping. Nella giornata di riposo al Tour sono due le tempeste doping che sconvolgono il mondo del ciclismo. Tutto inizia in mattinata quando la gendarmeria francese perquisisce l'albergo dove alloggia la squadra Cofidis e arresta Rémy Di Gregorio, 26 anni, ex campione di Francia a cronometro, per traffico di sostanze dopanti. Le indagini su di lui erano scattate lo scorso anno quando corriva per i colori della Stana. I poliziotti lo hanno interrogato per diverse ore a Marsiglia. Ad incastrarlo sarebbero state le sue conversazioni telefoniche con alcuni trafficanti di sostanze proibite. Nel frattempo la Cofidis comunica di averlo sospeso dalla squadra che peraltro prenderà regolarmente il via da Macon per la decima tappa. È un caso isolato, tengono a sottolineare gli organizzatori del Tour. Anzi, è la conferma che nessuno, davvero nessuno, può sperare di farla franca. Ma la notizia destinata a fare ancora più rumore arriva in serata. Dagli Stati Uniti l'agenzia antidoping annuncia la squalifica a vita di tre ex collaboratori di Lance Armstrong. Il discusso medico Michele Ferrari, il responsabile sanitario della US Post, Luis Garcia del Moral e l'allenatore, José Marti. Per gli aggiornamenti vi ricordo il sito tgla7.it prossima edizione del telegiornale alle 13.30. Adesso, dopo una pausa per la pubblicità, ci sono le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona a seguire il dibattito di Omnibus. Buona giornata.